buongiorno a tutti sono qua a casa dei miei nonni e lo sai quando si vede neanche una zona verde ma si vede mai con queste mascherine diciamo teniamo fino a quando dicono quando fanno i vaccini quando valgono qualcosa che diciamo che non è meglio rispettare le regole per tutti e soprattutto è una cosa importante di aver portato la pospita e con questo qua mascherina voglio diciamo in guerra diciamo noi siamo dentro inchiusi in questa casa in guerra della del covi siamo in guerra ma soprattutto con questo qua è una battaglia una guerra è una è una cosa credibile ma incredibile che cosa stiamo facendo qua stiamo piangendo stanno piangendo anche tutti i morti stanno soffrendo da come noi i morti guardano giù da noi i morti dicono sempre ma quante persone muoiono per fare questo noi diciamo per rispettare le regole diciamo state tranquilli così così sarà 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 che sono verde potrebbero 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 aprire tutto no come stiamo facendo noi qua e ma noi stiamo facendo un guerra qua l'italia qua cosa stiamo facendo qua oh state giù là dentro non venire qua in barca monica per portare al covi le persone le portanti e le cose poter anche il lavoro fare la spesa o cosa stiamo facendo noi qua noi per rispettare le regole meglio mettere le mascherine il gel il gel provare la febbre ti stamento non fare la cena oh cosa stiamo facendo noi qua siamo siamo dentro come una guerra non si fa così eh oh voglio vedere voglio vedere zona verde così le piste piene di andare a sciare e anche di palestra io 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 non voglio vedere il fisico neanche stare un po chiuso in casa voglio stare in giro capito anche avviso 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 anche potete legno quanta gente di quanta gente già uscita già stufi stare dentro in casa tutti vogliono stare fuori io qua sono delusamente voglio essere qua qua non posso dire niente metto le mani in chiaro fate voi io metto le mani in chiaro metto le mani avanti rispettiamo le regole con calma se se andiamo se andiamo se andiamo troppo avanti ma qua l'italia meglio andare una mano per tutti poi qua manca non posso non posso fare un gesto noi diciamo sempre tutti e come l'italia e qua l'italia non siamo più morti noi meglio rispettiamo le regole eh no dai cosa stiamo facendo qua noi noi facciamo la guerra muocchiamo e poi cosa facciamo siamo roma fare i cori sciti che cosa state tutti in casa e le cose importanti andare fare la spesa e a lavorare questa voce da super mario grossi punto e basta questo vuoi firmare anche tutti gli italiani giusto dai non possiamo stare troppo in casa riusciamo 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 un po cosa stiamo facendo noi qua dai fino alla fine forza l'italia giusto